Ciao ragazzi, io sono Red e arriviamo direttamente al punto. Questo mercoledì, quindi oggi, come avete visto, non è uscito il video, ma state guardando me che dal mio studio vi parlo. Questo perché nella realizzazione del video che sarebbe dovuto uscire questo mercoledì ci sono stati dei problemi. Uno tra i quali io che mi faccio uscire il gomito dal suo asse, perché sono imbecille, e Giuseppe che rischia di muo... perché è un imbecille, anche se nel suo caso siamo un po' tutti imbecilli. State comunque tranquilli, nessuno si è fatto niente di grave. L'unico problema è che non sappiamo ancora se possiamo postare il video, perché ci sono dei contenuti che YouTube potrebbe non ritenere appropriati alla piattaforma, e sappiamo tutti cosa succede se hai anche i contenuti non appropriati alla piattaforma. Quindi vi invito a tornare domani, ora è 1.30, per controllare se è uscita la premiere del video. Una volta uscita la premiere vuol dire che effettivamente possiamo postare il video e non ci sono problemi. Quindi mi raccomando, domani 1.30 venite a controllare se è uscita la premiere e cliccate quella campanellina che c'è sulla premiere, in modo tale che quando il video esce... Che quando il video esce... voi lo possiate sentire e vi arrivi una notifica. Niente, sei angry? Ah, volete sapere di cosa parla il video? E... beh, insomma, testiamo la resistenza di uno scudo, con vari arnesi. E dietro lo scudo ci sono io che lo tengo. E Giuseppe ha quasi... E a me è uscito il gomito. Ci vediamo domani.